Musica Terrazzo Telgarde incontriamo il capitano della selva Alessandro Giorgi, ben arrivato Alessandro Buongiorno a tutti E' una delle dieci contrade che prendono parte alla carriera del prossimo 2 luglio Honda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, Giraffa, Chiocciola, Drago Allora Alessandro dopo una sosta andiamo a mente in pista Sì, abbiamo corso a ottobre e ora abbiamo due pali e corriamo tutti e due pali Quindi è annata veramente importante Annata veramente importante, Alessandro Giorgi ha collezionato una vittoria come Mangino nel 2015 E ora è sei capitano dal due anni se non erro Dal 2017 2017 Allora, com'è questo palio? Cioè nella sua preparazione è un palio lineare o è un palio un attimo con molte cose da scoprire? Ma il palio è sempre complesso ovviamente dall'uscita delle tre contrade quindi nel momento in cui si è composto il lotto È iniziato un certo tipo di palio e ritengo che sia un palio complesso, interessante ovviamente Ecco l'inverno, gran lavoro? L'inverno io credo che tutte le dirigenze, anche quelle che non corrono ovviamente d'obbligo, i nuovi capitani Si impegnano, correndo due pali d'obbligo e c'era già altre tre contrade, quindi quattro contrade Poi si è aggiunta l'estrazione della chiocciola, siamo cinque contrade insomma Che si corre al momento tutte e due pali, quindi credo che l'impegno sia stato fortissimo per tutti Confermato Bartolo Ambrosione? Confermato, cioè richiamato Bartolo Ambrosione, c'è stata l'unanimità da parte dei capitani Credo veramente che per la quarta volta in momenti diversi, storici e dirigenti diversi lo chiamino sia un attestato di fiducia, di imparzialità veramente importante Come sono stati gli incontri in comune? C'è questa parola che ormai circola da tantissimi anni Sicurezza, 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 per cui sicurezza nei cavalli, nei fantini e chiaramente anche all'interno della piazza Ma è stato, negli ultimi due mesi, un susseguirsi di riunioni, di incontri In cui in modo collaborativo io credo che tutti hanno cercato di dare il massimo, di cercare di aiutare, di interpretare Indubbiamente ci sono molti cambiamenti in atto e culturalmente io faccio parte di una generazione che è vissuta In un palio in una certa maniera Cioè in un palio in una certa maniera e credendo che del palio poi meno si potesse cambiare Meglio è Al tempo stesso, proprio anche di Sera si è fatto un'assemblea bella incontrata In cui si è parlato un po' anche di queste cose evolutive E si è ricostruito un attimo anche quanto negli ultimi vent'anni Comunque Siena le dirigenze al momento responsabili, i sindaci al momento responsabili Abbiano cercato di tutelare la festa al massimo Buongiorno Allora sta arrivando il barman Atala e lo chef Andrea Vediamo intanto, diamo spazio, ecco grazie Ecco sta arrivando, va benissimo anche qua, perfetto Allora Questo AperTass con tassoni Allora no no aspetta AperTass, Aperol con tassoni cedrata Tutte cose inventa lui, AperTass inventa anche i nomi Bellissimo e perfettamente anche interessante l'abbinamento dei colori No perché sono colori della selva, invece Andrea prego No aspetta Un'anatra all'arancia classica con una composta d'arancia e un'insalatina Un piatto che può essere sia servito freddo come finger food oppure anche caldo alla sera come secondo piatto Anatra all'arancia dello chef Andrea del Garden che noi lo mettiamo qua Vi ringrazio e continuiamo la nostra chiacchierata Allora ecco dicevi che avete fatto questa assemblea Sì sì, quindi dicevo che è molto importante Aspetta a tutti con la massima collaborazione Cercare di lavorare al meglio ovviamente I temi sono tanti Insomma il popolo in senso lato recepisce e condivide queste cose Sai questo credo ci sia bisogno comunque di spiegare un po' Di interpretare e la maggior parte dei senesi ovviamente non vorrebbe cambiamenti di sorta Ma se guardiamo gli ultimi vent'anni diversi cambiamenti ci sono stati Allora evoluzione sempre della festa con tutti i vari riempimenti eccetera eccetera Ieri avete avuto anche un nuovo incontro all'interno del comune Poi chiaramente ti ci hai raccontato di questo incontro doveroso con la tua contrada In maniera cioè che tutti sappiano le motivazioni e quelle che sono poi anche i provvedimenti sulle cose da fare Ecco quello che non ho capito hanno levato le parolacce dai canti delle contrade O li sfottò E' un po' una battuta Sì sì no 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 Vabbè dai vediamo ci sono tante cose Tanti cambiamenti e quindi Abbiamo bisogno per digerirli un po' di tempo insomma E di E di vedere dai Cerchiamo Allora Cavalli 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 I mari colleghi che Si sono succeduti Così mi sembra uno spirito di andare su cavalli di Competitivi di fascia alta In maniera da dare una ulteriore Sicurezza su quello può essere lo svolgimento della carriera Ma Tatticamente La selva Se vuoi ha un percorso semplificato su cavalli Perché non avendo la rivale insomma Quindi storicamente può Muoversi in un certo modo Questo palio Che sperimenterà Come si è detto prima Diverse anche novità Dal punto di vista del protocollo E tutto Credo avere cavalli comunque di esperienza Cavalli che hanno ricorso fondamentalmente Sia Sia Importante E il lotto ci dovrebbe essere Ovviamente ora Ci sono le previsite C'è tutta una serie di passaggi Le prove di notte Quindi prima di arrivare a un lotto dei dieci Ovviamente C'è tanta strada ancora da fare Ecco Quanto Ma così Non vuole essere proprietario Quanto ci danno i fantini sulla scelta dei cavalli? Allora io credo che Per ogni contrada Di nuovo possa essere Anche diverso Quindi magari posso parlare di noi E quindi Non ci piace avere una nostra idea Lavorare su quella E poi ci piace Sentire e confrontarci anche Con quei fantini Con cui c'è un rapporto Importante E poi ovviamente L'ultima decisione Comunque spetta il capitano Lì E quindi la responsabilità piena È Per noi del capitano In questo caso Alessandro Quanto è cambiato Nel percorso tuo di vita Seguendo il palio La figura del fantino? Eh Anche Valutando gli ultimi 40-45 anni Senz'altro molto Sono sempre figure Comunque Interessanti E fanno Una professione Che credo Di fondo Li piaccia Da morire Quindi fanno qualcosa Che è veramente Anche bello Però Il tipo di lavoro Il tipo Di continuità Nel lavoro Oggi Veramente Sono atleti A tutto tondo Con Una capacità Anche di curare La dieta Qualunque aspetto Della preparazione fisica Che è Oggettivamente Un po' diverso Le strutture di riferimento Che hanno Le scuderie E tutto Rispetto a 30-40 anni fa Sono senz'altro diverse Sono imprenditori Giusto? Hanno la loro impresa Giusto? Io credo Che chiunque di noi Che poi lavori E tutto Insomma Oggi Vi va al passato tempo E quindi Si ragiona Tutti In un modo Un po' diverso Ecco Ale Perché si è bloccato Il cambio dei fantini Cioè Non si vede più Non esiste più Date cavalli Avanti marce Telefonini Brink 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 Tutto fatto Si è bloccato Il cambio dei fantini Inteso Nel senso Che la tratta E poi E questo Probabilmente Ci influisce Tantissime Tantissimi aspetti Tantissime cose È difficile È difficile Trovare un elemento Solo A noi A me personalmente Piaceva molto Quel tipo di palio Mi piacerebbe Anche Mi piacerebbe Anche Se ovviamente Questo Fosse Possibile Bisogna Che ci sia Un contesto Che forse Oggi In questo momento Davvero non c'è Poi voi nella selva Siete stati molto vivaci Su questo Noi siamo stati vivaci E chiaramente Ognuno si porta dietro Vi vogliamo Fabio Assolutamente Voglio dire Ognuno si porta dietro Quello Che ha vissuto Esatto E quindi Diciamo Per oggi Diciamo Ci sono certe caratteristiche Quindi Dobbiamo vivere Il palio Del momento Ecco Sulle Chiaramente Non le vogliamo sapere Insomma La selva Un po' Molto a tutti Sì Diciamo Correndo due pali È una contrada Che interessa A diversi fantini Ecco Mettiamola in questo modo Bella questa frase Interessa A diversi fantini No no Giusto Allora Leggiamo un po' Tutto lo staff Della contrada della selva Priore Stefano Marini Vicario Benedetta Mocenni Pro vicari Gilberto Seghizzi Giulio Valenti Capitano Che è qui con noi Alessandro Giorgi I tenenti Carlo Bernardini Mattia Ciani Valentino Valentini Barbaresco Niccolo Brocchi Vice Barbareschi Tommaso Forelli Luca Guerrini Michele Seazzu Presidente della società Lorenzo Loremo Questo è lo staff Che guida la contrada E poi lo staff Del palio Per tutte le sue Incombenze Date i cavalli Dove andate A fare tutte le telefonate Avete un posto preciso Avete un posto scaramantico No no abbiamo un posto Che negli ultimi anni Insomma è sempre stato lo stesso Lì Diciamo Vicino a tutte le venienze Diciamo Vicino a tutte le venienze Vicino a tutte le venienze Ad hoc Proprio Siete interessati Quanti cellulari usate? Ma Un tot È difficile È difficile Poi sai C'è un palio Che nasce Un po' più complesso Un palio Che nasce lineare Però Insomma Ormai l'uso dei cellulari Nel palio Perché poi Ale Ci sono tutti i momenti di parcheggio Ti richiamo Aspetto Sì ma poi Io trovo che ormai L'uso del cellulare È un qualcosa Che ovviamente Rispetto a 20-25 anni fa È fondamentale È quotidiano Pensiamo anche A come è mutato Il ruolo dei mangini Per esempio Rispetto a 20-25 anni fa E oggi ovviamente Anche tenere dei contatti Quotidiani Se vuoi O quasi quotidiani Tramite il cellulare È un po' più semplice Rispetto a prima Senti Quattro giorni Lunghi e corti Come le vivi? Ma I quattro giorni Sono quattro giorni Che comunque le senti Le senti Proprio anche fisicamente Sono quattro giorni Si dorme poco Si dorme poco Ma quello è E non si mangia E anche il suo bello Ma sai io Sul mangiare Poi non sono uno Che tutto sommato E quindi Che ti posso dire Sono intensi Te le ricordi In certi momenti Hai la sensazione Che queste giornate Durino molto In altri momenti Invece sono Sono troppo brevi Insomma Magari c'è sempre Qualche altra cosa Che avresti voluto fare Hai bisogno un po' Di stare da solo Qualche volta Per pensare Per rilassarti Ma in certi momenti Si ma in quei quattro giorni Devo dire Con tutti i compagni Di viaggio Con tutto lo staff Si è sempre creato Un'alchimia Particolare Io saluto anche Leonardo e Simone Mangini Che erano con me Nell'esperienza Precedente Perché veramente Abbiamo vissuto Delle giornate Di paleo Molto Molto coese E molto belle Senti Il momento bello Il momento brutto Dei quattro giorni C'è un dici ora Il momento brutto È subito dopo la corsa Quando non vinci Insomma Per noi Come Contrada Non avendo Tornato a ripetere Alla rivale Chiaramente L'obiettivo È quello I momenti belli Comunque Sono diversi E ci sono Anche Nelle giornate Diversi Momenti Momenti Impegnativi Ad esempio Quando fai esordire Un fantino Chiaramente Hai forse Un paleo Anche più impegnato Che con la monta Di un fantino Ormai consolidato Ecco L'ha Voi hai fatto esordire Andrea Coghe Sì 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 Proprio io Diciamo nel 2017 Si veniva da un paleo vinto E quindi Quale momento migliore Insomma Subito dopo un paleo vinto Nel 2016 Non si era ricorso Perché poi Dal paleo vinto Abbiamo forse solo tre pali In definitiva I due del 2017 E l'ottobre del 2018 E quindi Abbiamo ritenuto In quel paleo Di far esordire Andrea Coghe E di riconfermarlo Poi Agosto Ecco La mancanza Dell'avversario L'ha mai sentita Così Nello schema Nel gioco paleo Complessivo Ma Forse Quando avevo 18 20 anni 22 Ogni tanto Me lo posso essere domandato Poi Diciamo Maturando Chiaramente Ognuno Prende le sue cose E devo dire In questo momento Dato il ruolo Probabilmente È anche un vantaggio Non avere la rivale Quindi Dal lato Delle possibilità Senti Che paleo Si sta disegnando Complessivamente Si può rispondere In tantissimi modi Prova Prova A Argomentarmi Meglio La domanda Così Cioè Sull'aspetto Delle monte Tutti aspettano Ma Io credo Sull'aspetto Delle monte Ci siano Diverse Situazioni Di riferimento E anche La ghiandina Determinerà Le ghiandine Determineranno Poi Una serie Di asset Insomma Credo Che quello Sarà un aspetto Molto importante Poi Logicamente Dipende Il cavallo Che viene E come Si distribuiscono I cavalli Sulle altre contrade Per cui A quel punto Parte il gioco E quello lì Quindi Ci potrebbe essere Come dicevete Una scelta Molto Molto Veloce Oppure Ci potrebbe essere A questo paleo Anche Un qualcosa Di un po' Più lungo Ecco Poi in definitiva Se ricordo bene Anche Il luglio 2017 Fu Che era il primo paleo Tra l'altro Insomma Le contrade Sono andate a prendere Fantini Che era Quasi l'ora di scena Ecco Quindi Le sposto Le sposto Tutto Le sposto Tutto Una serie di cose Tra cui Anche La selezione Dei cavalli Che comunque È un altro momento Di strategia Palesca Anche quella In cui Certe cose Magari si possono Risolvere Velocemente O in alcuni pali Ovviamente Ci possono essere Strategie Contrapposte Che quasi Si annullano Allora Questo è il capitano Alessandro Giorgi Capitano della Selva Al quale noi consegniamo Il barbero Dell'Hotel Garden Con il ricordo Di questa intervista Io vi ringrazio Allora mentre noi andremo A farci questo drink Con poi Il lana tra l'arancio Vediamo Il palio Dell'agosto Del 2015 Con Tittia E Poloschi Che porta Questa Splendida vittoria Per la contrada Della Selva Alessandro Buon lavoro Ci vediamo In Piazza del Campo Ti ringrazio E un saluto a tutti Ciao Buongiorno Mossa valida Mossa valida Va in testa La Selva La Lupa Torre Oca Chiocciola Montone Primo San Martino Con Selva In prima posizione Se è caduta La Tartuca Selva Lupa Oca Torre Chiocciola Stiamo al primo casato Con la Selva Che conduce In seconda posizione La Lupa Segue l'Oca La Torre L'Istrice Montone Nicchio Ed eccoci al secondo San Martino Con la Selva Sempre in prima posizione Con un paio di lunghezze Di differenza L'Oca Che entra in seconda posizione Segue la Lupa La Torre In quarta posizione L'Istrice Arriviamo al secondo Casato Con Selva Che sta veramente Volando sul tubo Se sono impanciate Due contrade Abbiamo sempre La Selva In prima posizione Seguita dall'Opa Dalla Lupa Dall'Istrice E le altre contrade Ed eccoci con La caduta Dell'Oca Caduta Dell'Oca E la Selva Che sta Andando a Concludere la carriera Ultimo Casato Con la Selva In prima posizione Seguono lo scosso Dell'Oca La Lupa L'Istrice E gli altri scossi Il Nicchio Il Montone L'Onda E la Chiocciola